Ciao a tutti, eccomi qua in trasmissione, Francesco, Magia, Stragonaria, Paganesimo, ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16 e 30 e dalle 19 alle 20. Questa sera avremo un attimino uno sforamento in quanto riusciremo a arrivare anche più tardi, nel senso che dovremo arrivare in prossimità delle ore 21, perciò avremo un'ora in più di trasmissione. Con me in regia e in studio fra poco ci sarà un amico Ettore Ruzza, è un attimino impegnato però appena arriva partiremo, perciò affronteremo con lui tematiche certiche e finché è impegnato in sala della radio per altre cose, e vi voglio ricordare che Radio Gamma 5 è anche su internet e perciò abbiamo ascoltatori che sono nuovi ascoltatori in quanto Radio Gamma 5 era solo nel Veneto, anche se alcuni conoscevano la radio perché la Federazione Pagana e l'amico Franco e l'amico Alessandro trasmettevano abbondantemente questa trasmissione su internet, perciò moltissime persone conoscevano Radio Gamma 5 tramite appunto questa trasmissione. Adesso tutta la programmazione va su internet e in tutto il mondo ci possono benissimo ascoltare, perciò io ricordo il sito di Radio Gamma 5 che è www.radiogamma5.it e da lì appunto c'è il link che vi permette di ascoltare la radio su internet. In questo momento dalla nostra strumentazione ci risulta che stiamo trasmettendo e che stiamo andando, perciò gli ascoltatori che volessero intervenire, che ci stanno ascoltando su internet, ricordo che i numeri telefoni sono 049 700 700 e 049 708 38. Bene, allora finché Ettore si liberi vi voglio ricordare un po' di cose. Voglio ricordare che oggi abbiamo affrontato una tematica molto importante, che è una cosa più terrificante, che è stata la sentenza del Tar del Veneto per quanto riguarda il discorso del crocefisso. La sentenza del Tar del Veneto sul crocefisso è un qualcosa di mostruoso dal punto di vista sul lato del sentimento, in quanto stabilisce che tutta la storia dell'uomo parte del cristianesimo. E questo sappiamo benissimo che è una menzogna e che è una falsità. Si aggiunga a questo che si spera quanto prima si possa andare a votare per il referendum sulla fecondazione assistita, e anche lì sarà una battaglia di civiltà, di cultura. Proprio, se si dovesse parlare di scontro di civiltà, penso che il termine più giusto sarebbe più coniato, più utilizzato e più diretto sia quello che si può utilizzare per questo referendum. Proprio perché non solo io, ma anche persone che hanno una visione non pagana, hanno detto chiaramente che sulla fecondazione assistita si scontrono due realtà, due visioni del mondo che sono inconciliabili. Una della sopraffazione, dell'imposizione dettata da una visione cristiana è una della libertà dell'individuo, delle persone, dei popoli di scegliere una propria via. E di conseguenza questo è uno scontro importante. Non essendo uno scontro politico diventa fondamentale sapere valutare attentamente la cosa, dargli la giusta valutazione. E su quello che si può scegliere non è tanto un problema di religione o di visione religiosa, ma di come si intende l'uomo. Il monoteismo, l'abbiamo sempre detto, lo ripetiamo, è sopraffazione, è imposizione, è violenza ed è determinismo assoluto di quello che deve essere l'uomo soggetto a Dio. Noi sappiamo che il monoteismo è sempre basato sulla menzogna, sull'inganno, sulla falsità, sulle cose inventate. Benissimo. Valutate attentamente le posizioni che i cattolici cristiani prenderanno su questo referendum, perché da questo referendum potranno partire altre leggi e i roghi dell'inquisizione potranno partire. Io voglio ricordarvi che forse la miglior definizione di quello che i monotesti dicono nelle loro visioni sacerdotali, nelle loro visioni teologiche, è una frase scritta da Nice, ancora nel 1800, nell'Anticristo. E dice, Nice, oggi occorre sapere che un teologo, un prete, un papa, non appena aprono bocca a pronunciare una frase, non solo sbagliano, ma mentono. Le nozioni di al di là, quella stessa di anima, sono arnesi di tortura, sistemi di crullità, usando i quali il prete diventò padrone e padrone rimase. E questa è la caratteristica di ogni monotismo, è quella di dominare le persone, di essere padroni della loro vita e delle loro possibilità. Abbiamo visto anche per quanto riguarda tematiche di attualità, il caso degli Stati Uniti in cui si parla di eutanasia, del controllo della propria vita, della propria esistenza, e subito perché le persone sono soggette alla volontà di Dio secondo loro, non possono disporre della loro esistenza. E questo rientra nella logica che soltanto il padrone del gregge ha il diritto e la possibilità di controllare le persone. E soprattutto se non c'è questo padrone del gregge che si manifesta, possono intervenire in suo favore i vari cani da guardi, i vari cani da pastore. Gli altri sono pecorelle smarrite che devono essere ricondotte all'oviglia, devono essere controllate. E questo è una delle mentalità che in ogni monoteismo rientra, agisce e si manifesta. E voglio ricordarlo che appunto quando noi definiamo monoteismo, e lo vogliamo ripetere per quegli ascoltatori che fingono di non capire, monoteismo è il cristianesimo, il cattolicesimo, le religioni protestanti, l'ebraismo e l'islam. E vi ricordo che tutto quanto è stato fatto dall'avvento del monoteismo nella nostra cultura, nella nostra civiltà, è derivato dalla follia del monoteismo, dalla violenza del monoteismo. E il monoteismo si è sempre insinuato nella società, sfruttando le situazioni di disagio, di difficoltà per appropriarsi completamente di qualsiasi cosa. Lo si fa con le scuole religiose, lo si fa con l'inserimento della religione, lo si fa negli ospedali. E in merito vorrei ricordare fra le tante cose tragiche che in questo periodo stanno succedendo, guardate che recupero la documentazione, mi partirei da un semplice fatto che è successo ultimamente nella regione Lombardia. Allora, bene, ho perso anche il ritaglio, scusate un po' la disorganizzazione, ma vediamo di recuperarla. Era la notizia che verranno consegnati negli ospedali cappellani a spese della regione. E questa è una delle tante cose divertenti e curiosi che stanno succedendo. Ecco qua, la prendo dalla cronaca di Milano del Corriere della Sera. Intesa, curia regione, un prete in ogni ospedale, un sacerdote e piccole equipe con suore, diacone e volontari laici, i religiosi non cambiano il nostro lavoro. Ci sarà appunto da pensare, da valutare quali saranno i costi per la sanità. L'idea addirittura nel momento in cui si sono tagliate la sanità, tagliate le strutture, tagliate il personale, tagliate in tutti quanti i sensi, in cui anche nelle nostre campagne elettorali che siamo costretti a subire il discorso sanità è sempre più emergente, sempre più forte, veniamo a sapere che la regione Lombardia sarà disposta a garantire i ricoverati di fede cattolica l'assistenza spettuale di un sacerdote, nella misura di un sacerdote ogni 300 posti letto. Ecco, allora rendetevi conto che la regione non si è preoccupata, preso carico, non ha scelto di migliorare la sanità, di essi ci sono fondi di utilizzare per le persone, per le ricerche. No, si è pensato benissimo, e questa è la regione Lombardia, di istituire questo servizio, ogni 300 posti letto ci sarà un prete. Bene, ma questa non è una cosa nuova, perché stranamente, devo ringraziare un amico che è venuto alla cena del musso, mi ha portato un libro veramente interessante, che io ve lo consiglio anche di andarlo a recuperare, perché dà una serie di indicazioni. E' Oreste Clizio, si chiama Gerolamo Donato, detto il Farina, l'uomo che sparò a San Carlo, loro lo chiamano San Carlo Borromeo. E' stato pubblicato appunto dalle edizioni La Baronata e dalla cooperativa Tipo Litografica di Trice. Cosa c'è di curioso e di divertente? Sappiamo appunto che la Chiesa Cattolica considera il Carlo Borromeo santo e la sua vita appunto si aggira intorno al 1500-1600. E' diventato santo proprio perché ne ha combinati tutti quanti i colori facendo delle cose che sono veramente atroci. Le persecuzioni della stragoneria, la persecuzione dei laici, lo scontrarsi, il depredare e l'impoverire tutta quanta la società. Benissimo, il nostro San Carlo Borromeo ha anche una cosa molto molto divertente. E prendo da questo libro appunto Gerolamo Donato, detto il Farina, l'uomo che sparò a San Carlo, prendo una piccola nota. Dice la nota. Per rendere più spedite le estorsioni al letto dei malati, San Pio vietava i medici di curare quello che non si confessavano entro tre giorni dall'insordio dell'infermità. un santo che appunto obbliga a questo. E d'altronde dice, si dice, dice l'autore, che San Carlo fosse un grande manager, anche se non è proprio il caso di parlare di classe, abbiamo le stesse vedute. D'accordo quindi nell'accenno alla rete di infermieri da lui istruiti per estorcere i moribondi donativi e legati a suo favore. E questa è una delle caratteristiche. E ricordiamo che un altro santo della chiesa, San Pio, diceva, vietava ai medici di curare quello che non si confessavano entro tre giorni dell'insordio dell'infermità. Questo era il passato e questo, grazie al merito dei nostri polizi, rischia di essere il futuro e il presente. Bene, allora, Ettore si è liberato, è arrivato, allora vi ricordo che saremo in compagnia fino alle ore 21, perciò appunto avremo due ore e lascio adesso la parola a Ettore. Buonasera a tutti, Chiedere Itia vi porti salute e abbondanza. Questa sera parliamo, ho diverse cose che riguardano un po' i culti dei Veneti antichi, alcune scoperte che sono state fatte in Valdassa e poi diversa gente mi ha richiesto di parlare un po' delle erbe officinali e poi ancora parleremo della magia dei Celti per quanto riguarda il filone druidico. Allora, io volevo iniziare un attimino su le scoperte che sono state fatte in Veneto sui primi abitanti. E questa cosa riguarda la Val d'Assa che si trova sull'altopiano di Asiago. Ecco, questa ricerca che è stata fatta nel 1982 e poi è stata per la prima volta messa su questa scoperta sul mensile non so io penso che molti di voi lo conoscono si chiama Airone e questa cosa è stata scritta nel numero 29 del settembre del 1983. L'Airone scrive Allora anche se le ricerche sono ancora agli inizi sono già pronti per la stampa due volumi che danno interpretazione su quello che è stato trovato in Val d'Assa e gli autori Ausilio Priuli direttore del Museo d'Arte e Vita Preistorica di Capodiponte che ha avuto l'incarico di coordinare gli studi della comunità montana di Sette Comuni e Sergio Scaramella un insegnante di Vicenza autodidatta in questo campo che si è gettato anima e corpo nell'impresa e spiegare questi messaggi del passato a quanto ci è dato sapere i due libri svolgono i tesi in parte divergenti più cauto il Priuli che parla di incisioni risalenti fino al Neolitico superiore praticamente nel 3800 e 2800 avanti Cristo più deciso invece è Scaramella che individua cinque fasi storiche nella datazione dei graffitti risalendo addirittura fino a 15.000 anni prima di Cristo al cosiddetto periodo naturalistico verista ma in che cosa consistono le nuove scoperte dell'altopiano prima di tutto come si è detto se vuoi c'è un danno ascoltatore che si fa vivo che facciamo lo ascoltiamo perché probabilmente avrà riferimenti su questa scoperta infronto infronto io sono io Andrea ciao e dopo vengo a rire in finale radio va bene ti aspettiamo allora tanto stai in finale 9 siamo qua si parlava e sarei che asiano non stiamo mi asiano ma si chiama Slega Ross e Gall e sarei i vecchi nomi di Cimbri va bene Andrea ti aspettiamo allora lanciati a razza e noi in finale 9 siamo qua ciao 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 perciò avremo anche un altro ospite ecco l'amico Andrea lui è sempre all'ascolto prima di tutto come si è detto ci sono numerosi graffiti nella Val d'Assa che rappresentano figure antropomorfe simboli solari arnesi armi coppelle e animali poi molte scritte e croci di epoca più recente fino alla firma dei soldati austro-ungarici di Francesco Giuseppe infine sulle cime circostanti sono stati inviduati monumenti megalitici altari sacrificali un dolme e due menhir ce n'è abbastanza per iscrivere in blocco la storia dell'altopiano finora incentrata soltanto su qualche episodio isolato in epoca preistorica e sulla germanizzazione del territorio avvenuta attorno all'anno 1000 che ha prodotto un retaggio linguistico e culturale conservatosi fino ad oggi da allora infatti gli abitanti di sette comuni vicentini assieme ai cugini di Giazza e dei 13 comuni veronesi sono conosciuti come i cimbri soprattutto per merito della lingua diffusamente parlata fino alla prima guerra mondiale nella quale pochi e distorti elementi lessicali veneti si innestano sull'originale idioma germanico ma chi tracciò i disegni sulla rocce decine di secoli prima dei cimbri o realizzò gli imponenti monumenti preistorici probabilmente già 70.000 anni fa alcuni gruppi di netherlandiani vissero nelle grotte naturali che si aprono alla confluenza fra il torrente Gheppac il fiume di Gallio uno dei comuni dell'altopiano e Assa essi abitavano la zona del Bisele ma non hanno lasciato molte tracce di sé se si escludono poche selci scheggiate che si possono ancora rivenire lungo le sponde dei due torrenti fra le grandi ammoniti rosse e numerosi altri fossili l'unico altro insediamento sicuro finora era il villaggio preromano di Bostel posto proprio di fronte al Bisele dall'altra parte della valle fondato da popolazioni rettiche provenienti dalla pianura ed edite all'allevamento del bestiame era organizzato con abitazioni in parte scavate nel terreno addossate le une alle altre in una posizione strategica gli antichi retti probabilmente non rinunciarono mai a compiere scorerie nella pianura sottostante infassidendo le popolazioni residenti e forse anche gli stessi romani che nel primo secolo a.C. rasero al suolo il villaggio altre ipotesi però fanno risalire la distruzione di Bostel all'insediamento nel Trentino e nelle montagne venete di tribù celtiche proveniente dal Norico e dalla Lombardia ma tralasciando il problema di chi abbia cancellato il villaggio dalla faccia della terra pare proprio che le incisioni della Valdassa siano in gran parte da attribuire ai suoi antichi abitanti su questo punto però lo scaramella non è d'accordo e parla di incisioni che rappresentano animali e risalgono al periodo compreso fra i 15.000 e i 9.000 anni prima di Cristo la vallata in cui tempi lontani era forse considerata come una specie di santuario e in qualche caso anche come luogo di sepoltura fra le incisioni non ancora classificati ci sono infatti delle arcate incise su una parete rocciosa accanto a uno squarcio che potrebbe indricare le sopracciglia generalmente attribuit alla divinità posta a guardia dei sepolcri in seguito furono scolpite anche incisioni tipiche delle varie culture neolitiche dell'età del bronzo e del ferro e più tardi a partire dal 600 dopo Cristo quelle legate alla simbologia religione cristiana si va alle armi alle figure umane dei classici labirinti che rappresentavano il percorso della vita alle capane dagli animali alle crocci dalle fogge più diverse e poi chi magari avrà avuto modo di vedere anche queste raffigurazioni e incisioni perché è abbastanza famosa questa zona e chi poi è amante dell'antico dice è splendida fra tutte le raffigurazioni di una divinità con le mani enormi un gonnellino simbolo di potenza e due cerchi ai lati della testa di cui uno solo è contornato e uno scalpellato più profondamente a rappresentare il giorno e la notte molto bella anche un'immagine di donna incinta riconoscibile da una figura inserita nel triangolo pubblico scrupolosi sacerdoti cristiani probabilmente medievale hanno aggiunto due corna ai lati della testa cosicché la madre preistorica ha assunto l'aspetto di un diavolo secondo l'iconografia classica ecco tanto per capire che la lunga smanus della della santa mater chiesa anche in questo caso cercava comunque di deviare quelle che erano le simbologie di quell'epoca un capitolo a parte ancora del tutto da studiare è quello rappresentato dagli altari sacrificali e dai monumenti megalitici scoperti a Campo Rosà alle falde del monte Caberlaba e a Mezzaselva uno di questi ritrovamenti è costituito da un'unica enorme lastra di Pietro del pedo di circa 70 quintali con una scanalatura nel mezzo che probabilmente serviva per raccogliere il sangue di qualche animale sacrificato agli dèi graffitti rupestri e megalitti comunque non sono le sole attrazioni di un viaggio attraverso la storia dell'altopiano d'Asiago insieme con queste mute testimonianze del passato infatti come abbiamo già accennato sopravvivono ancora gli ultimi cimbri a parlare l'antico idioma germanico come lingua madre attualmente sono rimasti in 500 ecco e poi qua praticamente finisce un po' quella che è la storia di queste di questi ritrovamenti di quel periodo insomma e poi si va un po' a parlare di quella che è stata la fase cimbrica e avanti ecco questo è anche molto interessante questa cosa perché chi piace un po' la storia che va dal mille avanti Cristo a poco dopo Cristo capisce insomma il valore di queste scoperte ed è giusto che comunque la gente venga un po' informata su queste cose potrebbe aggiungere una cosa qua che è interessante io il libro non l'ho visto però da quello che mi ha parlato Claudio di questo testo il Sud di Cultura Cimbra ha pubblicato un libro sull'altracanotto questo libro da quello che lui ha letto parte che fa una denigrazione dell'altracanotto che è incredibile stranamente questo avviene dopo che noi sono molti anni e abbiamo fatto molti rituali all'altracanotto in agosto ma si aggiunge che va anche a ritirare fuori la storia infondata perché nella storia non è mai venuta che l'altracanotto venisse utilizzato per sacrificio umano cosa che non è vera che non corrisponde alla storia che non corrisponde ai fatti che non corrisponde alla linguistica che non corrisponde alla cultura non corrisponde all'antropologia ed è un po' più strano il fatto che proprio chi dovrebbe avere cura della cultura del luogo tenda a sminuirla a favore di una religione profetica come il cristianesimo che avrebbe salvato gli uomini dal sacrificio umano ecco questo è solo un inciso io andrò a recuperare questo libro e penso che ci saranno delle belle polemiche proprio per queste stupidagini che vengono scritte sull'altracanotto ma è pure Ettore ok riti e culti il tempo arcaico fino ad epoca storica non esistevano fra i popoli europei un tempio vero e proprio dedicato alla divinità ma i luoghi di culto erano individuati una grotta o in un boschetto luccus molto spesso di querce o di olivi il santuario montano dedicato a Giove ad Edona in Epiro ai tempi discritti da Omero cioè verso la fine del secondo millennio avanti Cristo consisteva in un bosco qui i sacerdoti badavano alle querce del Dio e su richiesta traevano auspici dallo stormir delle fronde in tempi più recenti gli alberi sacri sono stati sostituiti da orstostati in pietra e poi dalle colonne del tempio nell'età del ferro tra i santuari italici vengono ricordati il lucus jovis il bosco ferentino dei latini e la selva feronia sacra e liguri gli etruschi fino ai tempi storici si riunivano una volta all'anno presso Velsna Volsini nel bosco sacro di Voltumna una divinità dalla doppia personalità anche presso i celti il luogo i culti più antichi Nemeto non erano altro che i boschi sacri oricenti con boschetti nei presidi sorgenti quanto i santuari paleoveneti arcaici un passo di Strabone narra di boschi sacri dei veneti dedicati a divinità identificate come Artemide et Hera in cui tra l'altro gli animali erano mansueti e i lupi convivevano con i cervi una conferma ci viene dall'iscrizione venetica Entoluchi Termon su un cipo trovato presso Padova che delimitava i confini di un lucus il bosco sacro anche la presenza di acqua e di sorgente sul furie era un denominatore comune nei luoghi di culto dei paleoveneti e la libagione con acqua salutare risultava molto diffusa come ci viene indicato dalla presenza di vasetti potori a San Pietro Montagnon e di sipoli all'agole per fare qualche esempio questo rito della libagione viene frequentemente raffigurato su situle e su lamine le situle sono quelle pietre incise e per capire San Pietro Montagnon e l'attuale Montegrotto su lamine votive o funerarie assieme ai insoliti rituali oltre alle feste processionali gare sportive giochi ma anche mercati ben documentati niente di strano e i mercati approfittassero delle feste per vendere tutta una serie di oggetti votivi che poi i fedeli appendevano agli alberi lanciavano nelle sorgenti o lungo i pendei nei siti colinari o depositavano nelle fosse sacre questo rito sopravvive ancora oggi quando gettiamo una moneta alla fontana di Trevi o nel poto di Santa Giustina a Padova tale pratiche erano molto diffuse tra i paleoveniti e il donom una alla divinità aesum il votum in cambio di una grazia dot udes era fondamentale nel rapporto con la divinità donum ecco come capite magari questo questo passaggio no che magari quando uno va a Padova oppure va a Santa Giustina che getta una monettina come per aggraziarsi no una una speranza di fortuna già allora gli antichi facevano questi riti che donavano o o delle armi oppure delle dei vasetti o qualcosa a una a una divinità o se non usavano anche le punte di lancia spezzate e gettate non usate tra l'altro gettate nei fiumi eh sì tanto erano oggetti che non venivano utilizzati ma questo qui rientrerebbe in una visione più ampia in cui era il corso del dono che poteva essere controcambiato cioè nel senso nel senso che mi ha dato proprio un qualcosa che poi loro il fatto che non spezzate è che la simbologia che queste energie devono ricostruire la cosa cioè nel senso che non ti dono una cosa che è finita ma te la dono e per manifestare la mia necessità te la dono spezzata tu devi cercare di riconnetterla è proprio unico di analogia e simbologia allora donom donasto aesum si legge in lingua venetica sui manici di simpulo all'agole di Cadore e al santuario di Gurina non meno esplicita è la dedica latina sul manico di sitola da villa di villa votum solvit libens merito i recenti sacri poi erano costuditi da sacerdoti o sacerdotesse che praticavano la mantica l'auruspicina traendo presaci dalle viscere delle vittime auspicia dal volo degli uccelli e dallo stormire delle fronde difatti gli dei comunicavano con i mortali inviavano i loro ordini palesavano il futuro o ciò che sarebbe i mortali inviavano i loro ordini scusate avvenuto se non fosse qualcosa che poi per evitarlo attraverso tutta una serie di manifestazioni in codice che solo auguri sibille oracoli sacerdoti profetti e indovini riuscivano a decifrare e per tutto ciò occupavano un posto preeminente come tramite o pontifex nella vita religiosa dell'antichità e si rendevano manifesti e i voleri responsa della divinità e suggerivano il modo rimedia per evitare o parare l'ira del dio nuniant l'eventura nisi provideris e per capirne la benevolenza e la espiatio consisteva in doni sacrificali processioni lustratio e giochi e sibille ed oracoli legati al culto di un dio profetico come Apollo numerose le dediche a questo nome anche all'agole di Cadore erano spessi relegati su isole in luoghi impervi o grotte la pizia delfica l'oracolo del monte pito la sibilla cumana oppresso sorgenti termali era famosissimo nel veneto pre romano e romano l'oracolo di gerione presso Padova dove a consulto addirittura è venuto l'imperatore Tiberio in viaggio verso l'ilirico e ne riceve il consiglio di gettare dadi d'oro nella fonza Aponi Abano secondo Svetonio che è un filosofo è storico sul monte altare esisteva un piccolo antro denominato Bus della Veccia e non sembra incredibile che il ricordo di un qualcosa di arcano legato alle antiche pratiche del santuario possa essere arrivato fino ai nostri giorni tramandato dal racconto degli anziani non a caso tra i reperti votivi nel santuario paleoveneto romano compaiono delle insollite placchette bronze coincisioni della parvenza di numeri latini che sono state identificate provvisoriamente come sortes non si esclude allo stato attuale delle conoscenze che possono anche avere un significato oracolare anche la denominazione della località forse risalente alla prima cristianizzazione è documentata dal toponimo collo maledicto in un documento confinio cenedese nel 1398 il santuario e i nomi tutelari i sacrari paleoveneti nel cenedese come tutti i santuari del veneto alla fine dell'età del ferro sono stati individuati dalla presenza di reperti votivi mancano le strutture e i materiali sono stati rivenuti in situazione di accumulo disordinato molto spesso di frana e la notevole quantità di framenti di embrici e tegole di chiodi in ferro sono quasi sicuramente da collagare con qualche struttura forse linea che almeno in epoca romana si trovava sul posto a villa di villa durante un saggio di scavo sono stati individuati una certa profondità sul pianoro sovrastante la stipte dei massi conessico malta in una struttura non determinata forse le fondazioni di un saccello o l'abitazione degli addetti al culto di fatti i frammenti di anfora di vaselame e altri oggetti di uso domestico sul posto testimoniano anche di umili attività quotidiane anche al monte altare la presenza di frammenti di embrici di coppi di cubetti fittili da pavimentazione fanno ritenere molto probabile l'esistenza di un saccello di una qualche struttura con essa col fanum almeno in epoca romana i nomi tutelati dalle genti paleovenete almeno da quello che si desume dalle iscrizioni e da notizie di antichi scrittori da considerazione poi sui materiali venuti alla luce nei numerosi depositi santuari sono divinità di prevalenza femminili dea della salute della fecondità divinità croniche di un popolo di allevatori agricoltori ma anche di guerrieri spessissimo legate al culto delle acque che sopravvivono ancora ai nostri giorni ricordi di divinità delle acque nelle lagane le ninfe dei piedi di capra del cadore o le angane in consiglio negli epigrafi del santuario di lago di cadore viene nominata trumisiate forse una dea trimorfa poi trasformata dall'interpretatio romana in Apollo e presente anche un l'oudera alla quale viene dedicata una lamina pure agurina ad este era venerata reitia identificata come minerva con artemide o con giunone citata da Livio originario di Padova con Diana viene identificata reit rit di Magrè in ambiente retico paleoveneto cui venivano dedicate cona di cervo con iscrizioni purtroppo non vi sono elementi per determinare con sicurezza i nomi tutelari dei santuari del cenedese e le iscrizioni sono rarissime ecco per chi non conoscesse il cenedese e quel territorio di Vittorio Veneto a Villa di Villa poi i reperti più che qualche differenziazione confermerebbero un'omogeneità di culti e riti con il mondo paneoveneto le statuette ittifalliche le lamine di bronzo figurate ad una consistenza quantità di denti ed ossa di animali in genere maiale pecore capre o bovidi che erano residui dai sacrifici non abbiamo tracce di sorgenti forse disturbati in anni recenti dalle gallerie per l'estrazione di carbonato di calcio o dallo scavo di un canale cellina ma la presenza di frammenti di vasetti potoni in ceramica a pareti sottili fa supporre un rito collegato con libagioni d'acqua salutare comune in molti santuari in base agli ex voto possiamo riconoscere le medesine specializzazioni della Deivo della Stipe Baratella di Este o quello di Lagole di Cadore a testimonianza di una uniformità di credenze e riti nel Veneto antico ecco come vedete a distanza di centinaia di chilometri poi gli stessi riti gli stessi modi e usui erano praticamente uguali questo significava che le genti si spostavano basta pensare che tutte le popolazioni che non fossero di origine monoteistica avevano rituali con l'acqua se tu pensi che addirittura i maia che dicevano che facevano sacrifici umani all'interno dei pozzi che avevano in realtà erano cimiteri consacrati solo alla sepoltura delle persone quando hanno trovato le osse le hanno attribuito al sacrificio umano in realtà erano le sepolture di queste persone che venivano proseppellite nell'acqua e quei pozzi erano solo destinati alla sepoltura gli altri che la civiltà quando sono arrivati i conquistatori cristiani che non conoscevano niente hanno detto che facciano i sacrifici umani però come vedi al di là dell'oceano avevamo popolazioni che avevano tutti i rituali con l'acqua eh sì quanto all'identificazione del nome tutelare i dati sono molto limitati e discordanti difatti sulla base di alcuni attributi delle raffigurazioni della divinità su lamine figurate si è proposto di paragonare il nome di Villa di Villa ad una signora degli animali o da un ercole per la leontissia pendente dal braccio sinistro la figura con vesti femminili a tre balze con elmo lancia sulla sinistra e scudo appoggiato a destra farebbe pensare invece a una identificazione con Minerva una laminetta ricavata da un bordo di vaso in bronzo si può leggere invece in chiari caratteri venetici sinistrorsi vesustas forse una dedica a vesuta sanante o nell'epigrafa latina su manico di situla compare vettusa come nome tutelare del luogo ecco le situle per chi non sanno sono quei vasi in bronzo quanto al santuario del monte altare abbiamo un'assoluta mancanza di idee di che figurazione conosciamo però alcune specializzazioni dal nome tutelare il monte altare è noto da secoli per le sorgenti di acque salso bronco bronco diiche e sulfure che sgorgono dalle pendici del colle forse forse il culto del dio è in relazione con ritti presso le sorgenti attive anche a poca distanza dalla sommità e fra i reperti e recuperarti in frana sono stati raccolti pochi ma significativi frammenti di vasi potori sarebbe quindi una divinità della salute ma anche un nome protettore dei guerrieri e dell'insediamento umano come suggerito dai bronzetti maschili e dalle lamine a castello in negativo non è una divinità pastorale di allevatori o di agricoltori ma anche mancano di fatti lamine con raffigurazione di bovini o reperti con essi in modo evidente con agricoltura e pastorizia molto scarso il numero di ossa di animali raccolte su alcune lamine a quadrangolo irregolare e rastramato verso il basso c'è una strana punzonatura a doppio elemento decorativo più marcato di solito due cupelle di significato ignoto ma che si ipotizza collegato a una personalità doppia del nome tutelare non estraneo all'ambito paleoveneto ecco poi tutte queste cose magari le potete trovare nel museo di Vittorio Veneto che è molto interessante bene e adesso vi voglio un attimino così magari è una cosa che forse può interessare ai più che è per quanto riguarda le erbe officinali che è l'antica medicina celtica ecco poi queste sono cose sempre un po' curiose che magari la gente chi magari fa uso anche in erboristeria di alcune cose ecco io vi do alcune dritte ecco se così posso usare questo termine che magari poi se apriamo le linee qualcuno può anche essere interessato gli posso anche dare poi il nome l'autore di questo libro e adesso vi parlo di Celidonia o Tona conosciuto dai Celti con il nome di Tona la Celidonia veniva utilizzata come pianta diuretica purgativa colagoga e narcotica il succo giallastro della pianta simile alla bile deve avere suggerito ai druidi il suo utilizzo come stimolante epatico le moderne ricerche hanno confermato che la Celidonia è un potente coleretico capace di quintiplicare la quantità di bile secreta dal fegato conosciuta anche come lo zain o nadual gad cioè erba degli occhi la Celidonia veniva utilizzata come antiofaltminico secondo l'antica credenza che le rondini curassero con questa pianta i loro piccoli cechi in effetti la medicina popolare odierna ne consiglia la decodizione contro le olfaltmie croniche le ulcere palpebrali e le congiuntivite in realtà sembra che gli alcaloidi contenuti nel succo della pianta esercitano un'azione simile a quella della morfina in grado cioè di calmare le reazioni dolorifiche e di diminuire le contrazioni delle fibre muscolare oltre che di rallentare il polso e di abbassare la pressione endovasale grazie a queste sue capacità la celidonia viene utilizzata in casi di arteriosclerosi e per elenire il dolore durante le crisi dei cancerosi gastrici vale la pena ricordare gli studi compiuti dal professor Denisenco per sviluppare una terapia del cancro mediante il lattice di celidonia sia somministrato per via interna sia iniettato direttamente nella massa tumorale e ne è risultata una diminuzione delle emorragie una attenzione dunque un'attenuazione delle crisi dolorose e un certo rallentamento nello sviluppo del tumore secondo il greco discoride l'umore di queste piante mescolato a miele è un bollito e bollito in un recipiente di rame su un fuoco di carbone fornisce una vista acuta si estrae anche all'inizio dell'estate dalla radice e dalle foglie e dal frutto un secco o un succo che si fa seccare all'ombra e si ricostituisce in seguito la radice bollita con anetto e vino bianco guarisce gli iterici impastata con cura fa cessare le impeteggini con l'applicazione locali con vino così con il mal di denti oggi i guaritori bretoni curano la renella e l'idropissia con la radice di celidonia infuse in vino bianco mentre d'estate si utilizza ancora il succo fresco della pianta mescolato in parti uguali con miele come depurativo nella cura delle affezioni croniche dal fegato per curare le impeteggini i celti moderni si servono di una pomata composta con il succo della pianta bollito nello strutto fino alla consumazione del succo stesso la celidonia viene inoltre comunamente chiamata l'erba dei porri perché se ne utilizza il lattice contro le verucche forse i vecchi si ricorderanno di questa pianta anch'io me la ricordo che si usava spezzare il gambo e poi si metteva chi aveva i pori e poi il poro diventava giallo e continuando poi con questa pratica alla fine il poro proprio si toglieva usavano anche qua nella cultura cotadina usavano anche il lattice di fico anche il lattice di fico sì perché era tossico e di conseguenza veniva utilizzato ancora per quel tipo di cura che dici Ettore dunque sono meno 5 alle 8 visto che noi tiriamo fino alle 9 facciamo vediamo il comunicato della radio che è un comunicato importante che chiarisce molte cose facciamo la pubblicità di scribe